buongiorno da obiettivo news oggi 6 maggio san pietro in alasco ed è la giornata internazionale del colore creata per promuovere la consapevolezza sull'importanza dei colori nella nostra vita quotidiana e in diversi ambiti questa giornata speciale ha avuto origine da una serie di iniziative promosse da organizzazioni istituzioni e professionisti del settore la giornata è stata istituita ufficialmente nel 2009 da parte dell'international color association associazione internazionale del colore conosciuta anche come ai c dell'acronimo inglese i colori ci circondano ovunque hanno un impatto significativo sul nostro stato d'animo sulla percezione visiva e persino sulle nostre decisioni essi sono utilizzati nell'arte per esprimere emozioni trasmettere messaggi nell'architettura nel design perché atmosfere e stimolare la creatività nella scienza per la comprensione di fenomeni ottici e biologici e nella tecnologia per l'illuminazione e la visualizzazione oggi è anche la giornata nazionale delle olive e la giornata internazionale per non seguire la dieta tra i nati oggi nominiamo george glooney 1961 e orson wells 1915 tra di scomparsi ricordiamo maria montessori 1952